Ci troviamo nel ritiro di Caccia, ne approfittiamo per conoscere meglio uno dei volti nuovi dei bianconeri Lorenzo Migliorelli, classe 1998, difensore Lorenzo, innanzitutto come stanno andando questi primi giorni di ritiro? Un po' pesanti, ma stanno andando bene Come è stato il primo impatto con i compagni e con il mister? Bene, bene, un mix di gioventù e esperienza e staff sicuramente molto professionale Sei arrivato in prestito all'Atalanta, perché hai scelto il Siena e cosa ti aspetti da questa nuova avventura in bianconero? Ho scelto il Siena di fronte anche ad altre opzioni e spero di trovare continuità in quest'anno Descrivici un po' le tue caratteristiche in campo Sicuramente devo migliorare un po' tatticamente, ma appunto molto sulla forza e sulla corsa Lo scorso anno hai vinto il campionato con la Virtus Entella Ripensandoci, che esperienza è stata per te? È stata un'esperienza bellissima, perché comunque vincere un campionato è sempre un motivo d'orgoglio E spero si possa ripetere anche quest'anno Sei cresciuto in uno dei settori giovanili più importanti d'Italia Hai seguito un modello o hai un calciatore che ti ha ispirato in modo particolare? Certo, sicuramente all'Atalanta mi hanno impostato un modo di giocare Ho imparato molto da Giampaolo Bellini, che era secondo in Primavera Quindi mi ispiro molto a lui Non sappiamo ancora quale sarà l'esatta composizione del girone del Siena Ma la maggior parte delle squadre saranno le stesse dello scorso anno Quali sono le tue impressioni? Sarà sicuramente un girone molto competitivo Ma vedendo già i primi giorni la squadra possiamo fare molto bene Grazie mille Lorenzo Ciao